Qui a Boleano, in provincia di Potenza, in Basilicata, stiamo facendo un'esperienza con imbraccianti in generale, ma in questo momento anche migranti, per mettere alla luce la legalità e la dignità di questi lavoratori. La legalità perché è una zona questa invasa da molti caporali e dignità soprattutto per organizzare i braccianti, soprattutto i migranti, per il rispetto del contratto di lavoro e soprattutto per la loro residenza, perché le condizioni disumane del ghetto di Boleano non devono più esistere. Bisogna portare questi lavoratori in un posto dove possono condurre una vita dignitosa. Questa battaglia che è iniziata già l'anno scorso dovrebbe trovare uno sbocco prima dell'inizio della stagione che si sta approssimando, visto che nell'area di Boleano il prodotto che maggiormente si raccoglie è il pomodoro, poi si passa a Luba e alle olive, ma bisogna, come dicevo, togliere questi lavoratori dal ghetto, quindi trovare una sistemazione o in campi di accoglienza che siano degni di tale nome, ma la nostra battaglia come USP è quella di dare a loro degli alloggi nelle comunità limitrofe e quindi fare un discorso anche di integrazione con i cittadini della zona. Noi non facciamo opera di carità, questa opera è lasciata a ben altre organizzazioni, ma noi vogliamo puntare veramente sul rispetto dei lavoratori, sul rispetto della paga, sul rispetto dei contratti e soprattutto pensando anche al loro futuro pensionistico e alla rivendicazione di metodi come la disoccupazione dopo la campagna di raccolta che loro fanno, perché purtroppo in questa zona i datori di lavoro non sono rispettosi dei contratti e le giornate che risultano versate presso l'Inps sono molto inferiori a quelle che realmente si svolgono.